Io, com'è che l'aveva fatto all'inizio fa... Benica in mezzo Ok, io vado, eh Vai Oh mio Dio, mi sa che non si fanno andata This video wouldn't have been possible without the help of my guinea pig And his chunk of indecent quarantine hair growth Oggi useremo il nostro pettine comprato al supermercato Farbici da cucina Spruzzino per l'acqua Tutti attrezzi che potete fare, che potete trovare comodamente a casa vostra Iniziamo con lo spruzzare un po' di acqua Mi piace quando i parrucchiere mi fanno cose, ma sono come dal dentista Aspetto solo di sentire dolore Ma senti, ma forse effettivamente abbiamo bisogno di un asciutto a mano Dici? Che dici? È un po' freddo Uh, come il parrucchiere è vero Stiamo facendo per il content Esatto Allora, a un milione di views mi faccio operare e divento donna da Ea Ok Io, com'è che l'aveva fatto? Inizio a fare una riga in mezzo Inizia con una riga in mezzo Com'è che fanno i parrucchieri? Fanno, no, com'è che fanno, fanno così Prendono e poi tagliano, giusto? Porca C'è una ciocca E poterla rimisurare accanto a un'altra ciocca Maio, mio Dio Vieni da così Senti come vive Ok, io vado Va bene Posso smettere Perché un po' mi pento Madonna Madonna Dai, da tanto questi tra due mesi ricrescono, no? Spera pure prima Passo. il ciuffo un po sopra dai tagliameli un po davanti troppo lunghi davanti secondo me pure wow Va bene, secondo me più o meno ci stai, sì. Dai, dai, ci stai. Wow, pazzesco. Dai, guarda dietro com'è venuto bene. Aspetta, fammi riprendere dietro. Dietro è venuto bene. Ma un lavoro, Deo! Qua, qua, solo. Perché non c'erano la macchinetta, no? Sì. Top! Sì.